La differenza d'età con Andrea Preti Claudia Gerini parla della differenza d'età con Andrea Preti Claudia Gerini e Andrea Preti, la differenza d'età vale solo per le donne? Claudia Gerini e Andrea Preti stanno insieme da tempo, ma la loro differenza d'età continua ad essere un argomento ricorrente. Il modello, regista, attore e produttore ha 17 anni meno di lei. . Secondo l'attrice nel nostro paese la differenza d'età vale solo per le donne, infatti se l'uomo è molto più grande nessuno quasi lo nota. . Claudia ha raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, di non aver ceduto presto al corteggiamento dell'attuale compagno. . Preti ha dovuto insistere a lungo, lei stessa ha confermato di aver bisogno di tempo in amore. Ha poi aggiunto che a conquistarla è stato il suo corteggiamento all'antica, definendolo un ragazzo pieno di qualità e talento. . La Gerini è molto legata alla famiglia, lei stessa ha detto che vive giorno per giorno, ma prende le sue decisioni pensando soprattutto alle sue due figlie. . Claudia Gerini sogna una carriera in film internazionali. . Claudia Gerini ha conquistato moltissimi successi nei suoi 30 anni di carriera. . Tra questi ricorda con gioia viaggi di nozze con Verdone, attribuendo ad esso la sua maggiore popolarità. . La gente ad oggi ricorda ancora le sue battute. . L'attrice ha molti sogni per il suo futuro, tra questi quello di fare carriera in film internazionali alla Judi Dench. . Nonostante la sua età, pensa che il meglio deve ancora venire. . 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